Il momento che tutti temevano è finalmente arrivato in Endless Love. Nian non può più tacere e decide di rivelare alla polizia un segreto devastante, puntando il dito contro una persona insospettabile per la morte di suo fratello. Questa verità sconvolgente è destinata a cambiare tutto. Vecchie alleanze si infrangono, nuovi nemici emergono, e il caos travolgerà ogni personaggio. Ma a quale prezzo? E soprattutto, chi ne uscirà distrutto? Preparatevi, perché nulla sarà più come prima. Convinto che il loro matrimonio sia ormai compromesso, promette a Nian di rintracciare Zeynep. Zeynep e Kemal sono sconvolti dopo che lei ha ricevuto un breve video che riprende Zeynep, un anno prima, all'interno di una stanza d'ospedale, intenta a soffocare suo marito Ozan con un cuscino. Per Nian, il video incastra la sorella di Kemal senza possibilità di scampo, ma Ayan e Kemal non possono fare a meno di sollevare alcuni dubbi. Anzitutto, perché il video è così breve. E poi, se Zeynep ha soffocato Ozan, chi è stato poi ad impiccarlo? E soprattutto, chi ha piazzato una telecamera nascosta in una camera d'ospedale e a che scopo? Prima di continuare, se vorresti ricevere in anteprima le nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi sì nei commenti. Riprendiamo! Zeynep potrebbe risolvere alcuni dubbi, ma risulta scomparsa. È infatti nascosta in una casa procurata da Asu. Ma anche Emir si offre di aiutare la sua ex amante, e tutti sanno che nessun Coscuoglu fa un favore senza avere in mente uno scopo ben preciso. Mentre Nian, dopo aver ricevuto la lettera, va a casa di Zeynep e la aggredisce. Kemal va all'ospedale a farsi curare il colpo ricevuto, dopo aver avuto un giramento di testa che gli ha quasi comportato un incidente. Durante la colluttazione tra Nian e Zeynep, quest'ultima ha un'emorragia e implora Nian di non farle perdere il bambino. Nian, sconvolta, la porta in ospedale, dove si imbattono in Kemal. Zeynep è fuori pericolo. Kemal, determinato a scoprire la verità sull'omicidio di Ozan, contatta la polizia con l'intenzione di far arrestare sua sorella Zeynep. Tuttavia, durante la conversazione, emergono dubbi sulla reale colpevolezza di Zeynep, portando Kemal a riconsiderare le sue azioni. Vildan, leggendo una lettera lasciata da Zeynep, scopre le motivazioni che hanno spinto la ragazza alla fuga, tra cui la confessione dell'omicidio di Ozan. Questa rivelazione sconvolge Vildan, che si trova a dover affrontare una verità dolorosa sulla propria famiglia. Zeynep si trova in una situazione di pericolo imminente. Nel frattempo, Nian decide di presentarsi alla polizia per raccontare tutto ciò che sa. Dall'analisi della pistola utilizzata nell'omicidio, emerge che le impronte appartengono Vildan, complicando ulteriormente la situazione. Emir scopre che l'incidente automobilistico di Nian non è stato casuale. Qualcuno ha manomesso i freni della sua auto. Decide quindi di incaricare Tufan di indagare sull'accaduto, determinato a scoprire chi ha attentato alla vita di Nian. Akam propone a Zeynep di sposarlo, promettendole protezione contro le minacce di Emir. Nonostante accetti la proposta, Zeynep mantiene un atteggiamento ambiguo, lasciando intendere che potrebbe avere altri piani o dubbi riguardo al matrimonio. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti.